E' stata firmata la presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell'assessore al welfare Luca Trapanese, della presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, della dirigente della UEPE Claudia Nannola e della dirigente del Servizio Politiche di Integrazione Maria Rosaria Cesarino, la convenzione tra il Comune di Napoli e il Tribunale. E' bellissimo che si firma oggi qui al Comune perché questi lavori saranno a servizio della comunità di cui il Comune è il più prossimo alla comunità e rappresenta tutti i cittadini, i liberi e quelli che sono nel circuito penale. L'espiazione della pena attraverso l'impiego di lavori di pubblica utilità è finalizzata al recupero del condannato e al suo reinserimento nella società civile che rappresenta il fine principale della sanzione. Rappresenta veramente ancora una volta un punto d'incontro, una sinergia, parola oramai abusata, ma che veramente esprime la collaborazione che c'è e quindi mi auguro che nel futuro tutto questo possa veramente fruire dei buoni risultati, soprattutto a favore di persone che sono in corse, in difficoltà, in problematiche con la giustizia penale, ma che hanno assolutamente il diritto di riscattarsi. In base alla convenzione sottoscritta con il Tribunale, il Comune di Napoli avrà la possibilità di accogliere presso i propri uffici i condannati e gli ammessi alla prova per l'espletamento di lavori di pubblica utilità nella misura massima di 50 unità.